La Corte dei Conti lancia l'allarme sui conti in rosso del Comune di Teramo. La sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, dopo un attento monitoraggio con riferimento al periodo gennaio-agosto 2017, ha evidenziato per il Comune di Teramo un disequilibrio di cassa pari a meno 15,2 milioni di euro, corrispondente al 42% delle riscossioni di parte corrente. Il Collegio della Corte dei Conti sottolinea che il verificarsi di un deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e trovati gli opportuni rimedi. Cos'è che non va nei conti del Comune di Teramo? Ma è l'anticipazione di tesoreria che è un problema noto e ovviamente ha raggiunto un livello di guardia da monitorare sul quale occorre fare adesso delle azioni straordinarie per ridurla drasticamente e per evitare che l'impatto degli oneri finanziari connessi poi ovviamente vada a incidere anche sulla spesa corrente. Ma in parole semplici non abbiamo più soldi? Non è che non abbiamo più soldi, è una facoltà che viene concesso agli enti locali, buona parte degli enti locali purtroppo è in questa condizione, cioè nel momento in cui c'è una discrasia tra le entrate e le spese, il Comune ha la facoltà di potersi ovviamente approvvigionare presso il proprio tesoriere che nel caso di specie è l'ex bancaterca Sorgi Popolare di Bari. Ma costerà questo? Ovviamente, ovviamente, mentre fino a due anni fa la convenzione di tesoreria che avevamo sottoscritto era una convenzione particolarmente favorevole perché prevedeva un Euribor molto basso, prossimo allo zero, quindi sostanzialmente noi utilizzavamo denari senza corrispondere a alcun che, adesso con l'aggiudicazione della tesoreria la Terca si è applicato una percentuale, un tasso del 4% con un costo del servizio di 40.000 euro. Ragion per cui il costo ovviamente è sensibilmente maggiore. Chi è che non vi paga? Ma non ci paga soprattutto gli enti sovraordinati, noi abbiamo 15 milioni di euro da incassare tra Ruzzo, circa 4 milioni di euro, poi abbiamo la Regione, abbiamo anche dei soldi ministeriali. Ruzzo, Regione, ma anche Team? Anche Team, ma la tema riguarda soprattutto il problema degli incassi, questo è un tema annoso, anche questo. Abbiamo un'importante somma da entroitare, dai cittadini, relativa alle tariffe, ma quello purtroppo è un problema che risiede soprattutto nel fatto che la tariffa oggi, verosimilmente, deve essere ancora contenuta. Il Movimento 5 Stelle di Teramo, considerando gravissima la situazione finanziaria del Comune, chiede che sia convocato immediatamente un Consiglio Comunale straordinario affinché si provveda, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, all'adozione di interventi urgenti.